Om Shanti 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 a tutti i nostri spettatori grazie a tutti giusne sangem per bapko paia bapko lia usse sab mila baut vistar hai iso maa vaakya me aag nahi kertai kisi dina kerenge bas itna hi kerenge giusne sangem per bapko paia usne sab kuch paia jisne nahi paia usne paakar bhi sab khoya baut bachche hai khette to hai kye humne eishwar ko paa lia jara batau to se tumhye kya mila hai eishwar ke rop kis tariqe se tumhne paaya batau to se agar tumhne eishwar ko paaya hai ful milnye ke baad bhi agar koi prapti ke liye ful ki prapti ke liye prayas karta raha kya perché ci sono tutto ciò che ci sono quando ci chiede il raiato a 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 sissi tutti conoscono ciò che può fare qualcosa di fare un sattio un bambio per un bambino per un sattio per un sattio qualcosa di sattio può essere Se tu hai ognuno, tu hai un passo molto pianto, hai fatto piaccato aligningo, hai fatto pregno, hai fatto la tua esperanza, nel che ti hai morto di una rotazione, hai fatto di restare, hai fatto di restare, hai fatto di restare. Cos'è tu hai scannato, tu hai scannato anche da unio, tu hai scannato anche di non ho scannato da unio. Tu hai scannato proprio di quello che hai scannato. In cosa è scannato come diventare con il tuo corpo, hai scannato lo che hai scannato. non c'è e tu hai anche il tutto quello che hai fatto in questo modo, non hai fatto tutto, e tu hai già detto, che hai già avestà, che hai già avestà, ti hai già fatto tutto, non hai fatto tutto, non hai fatto tutto, per l'altro Non lo conosco. tu chi è qui? mi parte di contare che mi cosa fare? tu mi questo adhikarca che ci si non può fare? questo mi parte di contare tu mi parte di contare tu mi parte di contare e tu mi parte di contare tu mi ricordi non fare una predicazione non fare mai non prendere qualcuno non prendere non prendere Baba dice io sono I am that I am tu non capisci tu non capisci tu non capisci tu non capisci tu mi come come so tu mi non capisci non prendere ma io non capisci non capisci non capisci non capisci per me tu non capisci tu non capisci non capisci tu non capisci che su chi è scordato non è nulla, è che non mi è pointi che non ho per se, ma che ci ho scordato non è che non ha passato, se tu hai scordato che ci sono scordato, quindi abbiamo capito per questo il mondo è che tutti diciamo che non ci siamo non conosci perché non conosci perché non conosci non conosci non conosci non conosci non conosci che vedhì ha nessuno che non conoscevano, non conoscevano. Non conoscevano, non conoscevano, non conoscevano. Baba dice che ora è il momento di essere senggami, che per te faranno, faranno. Il primo è il primo è il primo è il primo è il primo. Il primo è 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 il primo non ho capito 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 che ti verrà con il vecchio di b bereits lato che tu non sei il vecchio, ti nonенной con il vecchio di nimmen ti non ne haiì capito. Ad oreso ti non hai sa che tu ti tornare to pure il secondo e tu mi riori e tu ti diciamo tu ha ricevuto come se ricevuto tu ho appunto 25,000 anni sono sempre in mania molti bambini che mai non hanno sono sempre molto per un second moje qui è il mio bambino e il bambino e quello è il bambino Sì, è un secondo. tu non è il suo figlio e tu mi dice che abbiamo ricevuto dove ricevuto dove ricevuto la cosa è la cosa per i bambini il mio padre ora in questo momento nel momento di nel momento di lui ha donato a bambini a bambini da a 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 che appare l'accia l'ha l'59 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 Voi piazza non poterà, vabbagya non poterà, che vabbagya 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 vabbagya. Vabbagya 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 vabbag La prima cosa è di capire di capire di capire di capire di capire. La prima cosa è di capire di capire di capire di capire. La prima cosa è di capire di capire di capire. La prima cosa è di capire di capire. La prima cosa è 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 di capire. è di capire. La prima cosa 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 è di capire.